Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, visto che l'altro giorno abbiamo visto un piccolo video in cui vi spiegavo come si realizzava un disco e vi ho mostrato Pro Tools, che è il software che utilizzo per registrare, in questo video vi faccio un piccolissimo tutorial di utilizzo. O meglio, spiegare Pro Tools necessita circa 15 anni di vita, però praticamente in questo piccolo video vi farò vedere come si registra una traccia di chitarra, quindi come va impostato il canale d'ingresso, come si registra utilizzando un plugin oppure no, come si mette la traccia del click e come si possono fare dei piccoli editing qualora facesse degli errori durante l'esecuzione. Quando voi iniziate a dover registrare, chiaramente dopo aver creato la vostra session, che vi ricordo la nuova session la dovete creare così, dovete creare una blank session, quindi una sessione vuota e va impostato a 44 e 100 kHz, 24 bit. Chiaramente quando voi andate a creare questa session qui non avrete nessuna di queste tracce perché appunto ve la crea vuota. Nel mio caso state vedendo una sessione già creata in precedenza dove ci sono tante tracce. Quando voi vi troverete con la session vuota, praticamente per raggiungere le tracce dovete andare qui sopra su Track e premere appunto su New e dovete andare a selezionare, se parliamo di chitarra o di basso, insomma di qualsiasi cosa audio, dovete creare una traccia mono e ne create una, se ve ne serve una oppure qui andate a selezionare 2, 3, 4, 10 in base a quante ve ne servono. Allora, chiaramente a ogni traccia potete dargli il nome che volete cliccando qui sopra, proprio sul nome, quindi vedete c'è scritto GTR1, voi ci andate a mettere il nome che volete. E successivamente in questa colonna qui dove c'è scritto Insert AE potete vedere che nel mio caso c'è già un plugin selezionato che appunto è Amplitube che serve per avere degli effetti per la chitarra. Ipotizzando che voi non abbiate questo qui ma ne volete mettere altri oppure utilizzare quelli di sistema, se voi cliccate in una casellina vuota qui sotto praticamente si apre la voce plugin. Una volta che avete plugin andate a cercare l'effetto che volete. Ora qui dentro ce ne sono tanti installati di terze parti, però di base, ad esempio dentro Harmonic, andate a trovare le cose che andate ad installare per la chitarra, quindi vedete i campi Tube 3, 4 e altri che ho io si trovano tutti qui dentro. Dentro Instrument potete trovare qualche altra cosa, ad esempio Expand 2 è un plugin per effetti di tastiera, ovviamente però per utilizzarlo serve una traccia Instrument appunto e non una traccia Audio come in questo caso, però vabbè questa è una cosa un pochino più compressa, la vediamo magari in un altro video. In questo caso appunto, nel mio caso appunto ho Amplitube 4 di IK Multimedia e quindi come potete vedere abbiamo già il nostro plugin settato, per cui non dobbiamo fare niente di più. Altra cosa importante da dirvi è questo Input dove vedete nel mio caso è impostato su Input 2 e se andate a cliccarci sopra c'è Interface e vedete Input 1 e Input 2. Che significa? Questo è perché la mia scheda Audio ha solo due ingressi, quindi una volta che il software riconosce la scheda Audio, vi mostra in automatico gli ingressi disponibili, siccome la mia scheda ne ha solo due e la chitarra è collegata su Input 2, voi dovete selezionare Input 2, in questo caso andando a mettere in REC la traccia, quindi è in grado di ricevere un segnale dalla scheda Audio, se io vado a prendere la chitarra e vado ad eseguire una nota, praticamente vedete che, come potete vedere, abbiamo il V-meter che funziona, come potete vedere, mentre io suono si muove lì quella lucina verde. Questa è una cosa molto importante perché praticamente ogni scheda Audio ha la regolazione del volume d'ingresso. Quando voi suonate, prima di registrare, dovete fare attenzione che questa lucina qui non arrivi mai sul rosso, perché se arriva sul rosso significa che va in clip e quindi avrete una traccia che poi gracchia. Ok, quindi a questo punto siamo pronti per iniziare una registrazione. Allora, le cose fondamentali da fare sono in questa parte qui dove ci sono i comandi, praticamente se voi tramite questo pulsantino qui andate ad abilitare il click e qui sopra praticamente avete il controllo del tempo. Chiaramente dobbiamo creare una traccia click, quindi voi quando andate qui sopra cliccate su track e trovate questa voce qui, create click track. Questo qui praticamente vi va a creare questa traccia qui dove praticamente andiamo ad applicare un plugin semplicemente per scegliere il suono del click che vogliamo. Infatti se io vado a mettere play, sentiamo questo rumore qui, ma voi potete semplicemente cambiarlo tramite queste finestre. Qui potete mettere il suono che vi piace. Questo qui è il classico campanaccio, diciamo che si sente bene. Allora, di default il click viene impostato sempre a 120, però qui sopra potete andare a modificare la velocità del click facendo doppio clic su questo segnettino rosso e qui potete andare a mettere il tempo che volete. Ad esempio se vado a mettere 180, vedete che il click è diventato più veloce. Adesso facendo command Z torno indietro e ritorno a 120 perché per questo esempio facciamo una cosa molto tranquilla. Allora, detto ciò, una volta che noi abbiamo messo in REC la nostra traccia, per mettere in registrazione possiamo o spingere il pulsante di registrazione qui oppure possiamo semplicemente premere il pulsante numero 3 sulla tastiera. Allora, adesso vi spiego un paio di cose. Di solito quando si registra si lasciano un paio di battute di click a vuoto. Quindi io adesso metto in registrazione, lasceremo che il click conti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e poi inizierò a suonare qualcosa. Cercherò di essere il meno preciso possibile in modo tale da farvi vedere come si corregge. Allora, vado a premere 3 quindi entriamo in registrazione 1, 2, 3, 4 Cerco di andare fuori tempo, no? Ok? Allora, che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo registrato una traccia Allora, praticamente se voi suonate a tempo ogni onda prodotta dalla vostra mano deve stare precisamente a griglia quindi voi potete vedere che all'inizio sono andato bene ma poi mi sono perso Vediamo un attimo, no? Vedete che rallento? Allora, in questo caso noi possiamo andare a effettuare un editing su questo suonato e possiamo andare a rimettere a tempo queste parti che non lo sono Allora, una cosa importante da fare subito è capire come funziona questo menu qui sopra perché in questo caso è selezionato su grid Quando sta su grid significa che vi potete spostare potete posizionare il cursore solo sulla griglia non vi potete posizionare in mezzo Ok? Quindi praticamente se voi andate su per potervi mettere in mezzo dovete selezionare slip Selezionando slip potete mettervi in qualunque punto volete Questo perché? Perché noi dobbiamo andare ad esempio qui che vedete che questa nota è suonata fuori tempo noi dobbiamo andare ad esempio in un punto qualsiasi Poi premendo Command E noi andiamo a fare un taglio in questa zona qui Una volta che abbiamo tagliato questa parte andando a selezionare la manina qui sopra noi possiamo prendere l'intera traccia e la possiamo spostare a tempo quindi io l'ho spostato un pochino verso la sinistra e come potete vedere ho messo questo pezzetto a tempo Una volta che abbiamo spostato questo pezzo quindi rimane il taglio dobbiamo selezionare il taglio e andando a premere Command F andiamo a dare OK così in modo tale che il software va a creare un crossfade sul taglio e non ce lo fa sentire quindi praticamente andiamo a effettuare la stessa operazione sugli altri tagli sugli altri errori che ho fatto e quindi sempre tagliando e posizionando tutte queste note diciamo nel punto corretto ed effettuando sempre il crossfade andremo a vedere che il suonato diventa perfetto ad esempio già vediamo questi due possiamo provare e vediamo avete visto? questi qui sono andati a tempo quindi praticamente se io vado a fare la stessa cosa qui sposto questo me lo sposto qua più o meno adesso ovviamente è fatto tutto molto in fretta quindi senza nessun criterio vediamo un attimo ok avete visto praticamente sto in pochissimo tempo andando a mettere a tempo un suonato veramente pietoso considerate che questo tipo di editing si può fare su qualsiasi parte si può fare sul basso si può fare anche sulla voce perché ci sono dei plug-in che riescono ad intonare riescono a mettere diciamo la nota corretta se voi stonate so che non è una cosa molto corretta visto che in questo modo potrebbe cantare chiunque però di base ormai è la prassi e tutti fanno tutti utilizzano questi plug-in per avere delle prestazioni migliori di quelle che hanno nella realtà ok ultimi due ultime due note vediamo qui questa la metto qua a questo punto mi faccio direttamente anche l'ultima la taglio e la porto in posizione corretta forse un altro pochino più qua ecco vado ad eseguire il crossfade vi ricordo sempre con dopo averlo selezionato con command F e questo è il risultato finale vediamo che praticamente siamo andati a tempo perfetto allora dopo che avete finito il vostro editing quindi in questo caso abbiamo spostato tutte le parti suonate fuori tempo e le abbiamo portate a griglia dovete sapere che praticamente in questo caso non è una traccia unica questa qui ma come potete vedere ogni taglio ha prodotto qui di lato un file separato quindi in questo caso state vedendo che sono tutti file separati quindi noi dobbiamo andare a consolidare il nostro file per renderlo unico quindi per farlo diventare una traccia unica per cui voi andate a selezionare tutti i file insieme quando li avete selezionati tutti dovete premere contemporaneamente shift alt e 3 questa operazione si chiama consolidamento e praticamente consolidando voi avete creato una traccia unica quindi questo qui è diventato un unico file come era in origine prima di essere tagliato e come potete vedere adesso abbiamo tutto il suonato relativamente a tempo adesso l'ho fatto in 5 minuti quindi non è proprio preciso se voi vedete se noi andiamo ad ingrandire un pochino vedete che non è ancora precisamente a tempo perché questo pezzetto qui deve essere proprio all'inizio della della griglia della riga diciamo di questa colonna però di base questo tutorial serve proprio per mostrarvi la potenzialità di Pro Tools ovviamente di qualsiasi altro software di editing con i quali in pochi minuti potete aggiustare qualsiasi errore allora una volta che voi avete finito l'editing potete selezionare la traccia come ho fatto in questo caso la vedete qui di lato che è evidenziata se voi fate tasto destro con il mouse potete fare export clip as files quindi praticamente a questo in questo caso potete andare a scegliere se esportarlo in WAV o in mp3 o a if e scegliete chiaramente dove volete esportare il vostro file lo esportate e lui vi genera il file che quindi potete utilizzare come volete allora voglio concludere questo video ricordandovi che praticamente io sto utilizzando la versione di Pro Tools che non è l'ultima ma anzi in realtà abbastanza vecchiotta visto che è la 11.3.1 però di base nelle versioni nuove queste funzioni qui non cambiano per cui qualora aveste versioni più vecchie o più nuove e voleste delucidazioni su altre cose fatemelo sapere nei commenti qui sotto in modo tale da potervi aiutare molto volentieri detto ciò vi saluto se questo tutorial vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice su ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo molto presto in un prossimo video ciao